Milan-Liverpool, lo so, sono impresentabile, ma dalla mia ho l'orario come scusate, sono quasi le 3 di notte, noi di robe strane ne facciamo su questo canale, continueremo a farle, però ci piace così, perché per parlare di calcio c'è sempre tempo, modo e luogo, e allora approfittiamone subito. Mi sono messo, mi sono andato ad ascoltare le critiche, le analisi, gli highlights lunghi, e voglio dire la mia sull'uscita della Champions e su Milan-Liverpool, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, se volete lasciate un like, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, e perché no, alle 3 di notte parliamo anche di OneFootball, un'app che vi potrebbe far svoltare, semplicemente vi tiene aggiornati su quello che è il mondo del calcio, se avete la necessità, ma soprattutto il piacere di seguire costantemente le notizie sul calcio, con OneFootball state messi bene, alla grande, perché vi aggiorna su tutto, qualsiasi cosa, ed è gratuita, quindi di cosa parliamo? Andiamo, andiamo, scusate veramente che sono impresentabile, scusatemi, però voglio dire la mia, faccio un altro preambolo, perché poi lo so come funziona chi arriva, che spesso non conosce questo canale, quindi nuovi, nuovi arrivate, no? Io quando le italiane giocano nelle competizioni europee non mi troverete mai festante, no? E di qui, no? I cugini sono usciti che bene, no? Se cercate questo genere di spettacolo non vi faccio perdere neanche tempo, andate altrove, e di certo non ho bisogno di lezioni di tifo da nessuno, Ma, invece, se volete esprimere un parere che sia negativo, positivo, equilibrato, ma il vostro parere è sotto, fatelo pure Milan-Liverpool Sconfitta di misura Sono mancati alcuni giocatori nel rendimento, secondo me almeno, sono mancati alcuni giocatori Teo Che sì Ibra Per fare tre nomi, possiamo aggiungerne sicuramente anche qualche altro Però Attaccare O Svalutare la stessa uscita di Champions per questi giocatori Sarebbe ingiusto Sarebbe, sarebbe, sarebbe ingiusto, cioè, io Credo Che Nell'ambito Professionale Nell'ambito Delle relazioni umane Nel, nel, in qualsiasi ambito Nell'ambito calcistico Ci siano delle tappe E vanno, vanno tutte rispettate Il Milan Le ha anche bruciate, tra virgolette, nei due anni di Pioli Facendo un ottimo lavoro Guadagnandosi questo Questo, questo, questo ingresso alla Champions Si è partita dalla quarta fascia Quindi sapete bene Gruppo e girone Infernale Proibitivo Nelle difficoltà È arrivato a giocarsi Una possibilità Seppur non Non Una possibilità Si è giocata una possibilità Nell'ultima giornata Si è arrivata A giocarsela Ma ci sono giocatori Che secondo me Nel rendimento Sono venuti meno E ho fatto dei nomi Prima Perché sono venuti meno? Ragazzi Perché Ci sono partite Che pesano di più E tu queste partite Devi giocarle Devi giocarle costantemente Devi essere Allenato A queste partite E per farlo Devi giocare sempre Questa competizione La devi giocare Ogni anno Come fa il Liverpool Che Di status Sai già Che lo troverai Perlomeno Agli ottavi di Champions Lo troverete Magari banale Questo mio concetto Questo mio modo Questo mio modo Di percepire La situazione Può darsi Che lo sia Davvero banale Ma credo che Questo sia Sia comunque Un aspetto Che non sia Trascurabile Perché Io ricordo Due anni fa E faccio sempre Un esempio Di casa mia L'uscita Dalla Champions Dell'Inter Contro il Barcelona Beh Che chiamavano in tanti No Le riserve Del Barcellona Vanno battute Vanno buttate fuori E in tanti ridevano Potrei dire la stessa cosa In parte La dico anche Oggi Le riserve Del Liverpool Perché Levato Salah Mané E Alisson Le altre Gli altri Non erano considerate Titolarissime Della squadra Eppure Eppure Hanno meritato Di vincere A San Siro Eppure Eppure Hanno 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 battuto Il Milan A San Siro Perché Perché Questa è una squadra Abituata A questi ritmi A questi livelli A queste partite C'è bisogno di tempo Ragazzi C'è bisogno di tempo E io credo che Il primo anno Del Milan Champions Sia Sia stato più che positivo Sia stato più che positivo E E serve Servirà Servirà per le prossime stagioni Servirà Servirà per le prossime annate Servirà Servirà Tutto Tutto qua Perché io non posso pensare Che Teo Sia quello visto stasera Che Che Si Sia quello visto stasera Che lo stesso Ibra Sia quello visto stasera Per fare tre nome No Tre nome Ma se ne possono fare Se ne possono fare anche altri Sono giocatori che Hanno dimostrato Di avere un livello diverso Altrimenti questa partita Non la giocavano Non la giocavano neanche Però Sono d'accordo Con chi dice che Il Liverpool Sia una squadra Fortissima Sia una squadra Di grandissimo livello Ma attenzione Io penso Penso comunque Non voglio essere frainteso Penso comunque Che il Milan Poteva fare il più Stasera Il Milan stasera Poteva fare il più Contro questo Liverpool Magari non nella fase Difensiva Ma nella mole di gioco Poteva creare più Occasioni da gol Contro Di certo Una difesa Che Quella del Liverpool Ripeto Grande squadra Ma senza Van Dijk Dietro magari perde Perde molto E di conseguenza Qualche occasione in più Qualche situazione in più E poteva fare qualcosa in più Ma Ragazzi miei Secondo me È mancata a livello mentale Qualcosa Ma sarebbe Strano il contrario Cioè Che sia chiaro Quello che è il mio punto di vista Sarebbe strano il contrario Che Che il Milan diventa Una squadra di veterani E tranquillamente Anche in Europa Batte tutti Sarebbe Sarebbe Impensabile Il contrario Per me è mancato Per me è mancato Quello È mancato Quello E Altrimenti non mi spiego La prestazione Di alcuni Di alcuni giocatori Che Sicuramente hanno Un altro Un altro valore E mi ripeto Però Adesso Il Milan È fuori È fuori da tutto E Si potrà concentrare Sul Sul campionato Ragazzi Per me è così Per me La Champions È una competizione Diversa È una competizione Dove Mentalmente Ti giochi Ti giochi Tanto Mentalmente Devi essere Veramente pronta Non è un caso Che ci sono squadre Che nonostante Non abbiano Magari anche Un livello Tecnico Propriamente Cersi In alcune circostanze Ma Tradizionalmente Badano Badano avanti Proprio perché Sono abituate Ad alcuni livelli Ad alcune partite Ad alcune competizioni Spero che Il mio Non sia Catalogabile Come 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 Pensiero banale Ma che venga Capito per quello Che volevo esprimere No Perché Altrimenti Stasera Uno se la prende Con Teo Con che si Con lo stesso Qualcuno potrebbe Prenderselo addirittura Con un mignone Per la respinta No Però faremo Un torto A quello che è stato Il percorso E non credo che sia Non credo che sia Che sia Giusto Ci può stare Questa sconfitta Ci può stare Questa uscita Ripeto Al primo anno Tutto ci può stare Tutto ci può stare E va bene così E va bene così Fatemi sapere Cosa mi pensate voi Commentate Like e iscrivetevi al canale Un grande abbraccio 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 Grazie a tutti.